Musica Nella ripartizione delle risorse statali si è arrivati ad un accordo con il governo per le province Sard e la città metropolitana di Cagliari. Nel prossimo biennio saranno messi a regime 50 milioni. Persi 24 mila passeggiri nel mese di gennaio nello scalo di Alghero, il dato di essere a Porti conferma il trend negativo del 2016. Tragico il calo dei voli internazionali. Grande festa di carnevale a Lipunti con i bambini delle scuole primarie e dell'infanzia. Non solo maschere ma anche materiali di riciclo per un progetto di sensibilizzazione ambientale. TG di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura l'avete sentito dai titoli. Partiamo da una vicenda che si chiude positivamente. Accordo raggiunto infatti per la ripartizione delle risorse statali per le province Sard e la città metropolitana di Cagliari. Per l'assessore Cristiano Riu si è posto fine ad una grave ingiustizia. Nel prossimo biennio infatti saranno messi a regime 50 milioni di euro. Sentiamo Sandra Sanna. La Regione Sardegna dopo diverse settimane di intesa ha raggiunto un accordo con il Governo. L'iniziale esclusione delle province Sard e della città metropolitana di Cagliari dei fondi statali è stata definitivamente superata. È passato il principio secondo il quale gli enti che partecipano al risanamento della finanza pubblica, come quelli di vasta area della Sardegna, devono partecipare anche al riparto delle risorse per calmirare i tagli subiti in questi ultimi anni. L'intesa raggiunta anche grazie al lavoro congiunto con ANCI, Cale e con la conferenza permanente regione e enti locali è stata convocata dall'assessore Cristiano Riu per condividere la soluzione prospettata dal Governo e prevede che agli enti di vasta area siano riconosciuti 20 milioni di euro per il 2017 e 30 per il 2018. Il risultato raggiunto ha consentito di mettere a regime 30 milioni di euro a partire dal prossimo anno, che saranno decurtati dai tagli introdotti con la legge di stabilità per il 2015. Abbiamo posto rimedio a una grave ingiustizia al commento dell'assessore Riu. Ritengo sia il risultato strategico l'intesa raggiunta con i rappresentanti delle autonomie locali e il sindaco della città metropolitana di Cagliari. In questo modo garantiamo la continuità amministrativa e la qualità dei servizi erogati ai cittadini. E ora parliamo di trasporti. Anche i dati relativi al mese di gennaio di Assereo Porti non rivelano nulla di buono sul fronte del flusso dei passeggeri nello scalo di Alghero. Meno 24 mila passeggeri rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un dato negativo che si somma al bilancio dell'intero 2016, che ha segnato lo stato di salute dello scalo algherese. Altri 24 mila 135 passeggeri persi rispetto al gennaio del 2016, con un meno 90,2% degli internazionali, che vanno ad aggiungersi ai 339 mila 591 persi nel 2016. In buona sostanza, in soli 13 mesi, l'aeroporto di Alghero ha perso 363 mila 726 passeggeri. A mettere l'accento sui dati preoccupanti è lo scalo algherese il vice capo gruppo di Forza Italia, Marco Ted. I dati di Assereo Porti relativi al mese di gennaio 2017 non lasciano dubbi. Meno 29,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il 2016 per l'aeroporto Riviera del Corallo è stato un anno difficile, questo è noto. L'abbandono di Ryanair, principale vettore allo coste europeo. La lunga partita per l'acquisto da parte di un privato, concretizzata di solo a fine anno scorso, con l'acquisto da parte di F2I delle quote Sogeal. La manifestazione da parte dei vertici del vettore irlandese di voler tornare a volare su Alghero, ma solo a mezzo stampa, almeno fino ad oggi. La speranza, con l'arrivo del maggior fondo italiano che gestisce tra gli altri, anche allo scalo di Milano malpensa, che tutto potesse riavviarsi, vista anche della stagione estiva 2017, che si avvicina sempre di più, senza che però qualcosa sia realmente cambiato. Una vera e propria picchiata dell'aeroporto di Alghero che avviene mentre i flussi dei passeggeri crescono in Italia del 6%, questo, secondo l'ex sindaco di Alghero, è il risultato dell'immobilismo della regione, che fino a tre mesi fa era proprietaria del 100% delle quote della Sogeal. Il confronto sul flusso di passeggeri con gli altri scali dell'isola è impietoso, Cagliari più 6% e Olbia più 15,3%. Non abbiamo notizie sul piano incentivi a low cost da parte della regione e da parte della nuova proprietà, non arrivano comunicazioni sul piano industriale, continua Tedde. Ci attendiamo che i rappresentanti istituzionali, che oggi sono impegnati a bacchettare gli albergatori e i rei, a loro dire di alzare i prezzi, una volta e per tutte insorgano contro la giunta Piglieru e si mettono a capo di una serie forte azione di protesta del territorio, di un territorio che non riesce più a sopportare questa crisi economica, indotta soprattutto dalla perdita di turisti. E ora invece torniamo a parlare dell'avvertenza dei minatori di Olmedo. La prossima settimana i rappresentanti sindacali si recheranno ad Atene per discutere sul futuro delle attività estrattive e sul destino dei lavoratori. Ospiti della concessionaria nella miniera di Bauxite. Sentiamo Marco Sanna. La regione si oppone in maniera formale al comportamento della uscente concessionaria per le estazioni di Bauxite della miniera di Olmedo, la SB Industrial Minerals, che ha operato sul sito fino al 2015. Lo fa con un documento firmato dal direttore del servizio attività estrattive e recupero ambientale, facente capo all'assessorato dell'industria, Gabriella Mariani. La contestazione riguarda le omissioni da parte della società sulle prescrizioni in materia ambientale e in particolare sui cumuli di materiali da estrazione sui piazzali del sito minerario, materiali che avrebbero dovuto essere asportati e avviati lo smaltimento in discariche specializzate. I rifiuti dovevano essere smaltiti entro tre mesi dall'estazione, scadenza avvenuta nel giugno 2016, e nonostante i solleciti e le diffide non sono mai stati asportati. Nella diffida emessa qualche giorno fa si dispone l'immediato smaltimento di circa 3.500 tonnellate di materiale stoccato e si decide di affidare il lavoro alla società in-house della regione IGA-SPA, caricando gli oneri del servizio ai concessionari della miniera. Un provvedimento tecnico, ma da sapore politico, nel tentativo da parte dell'assessorato all'industria guidato da Maria Grazia Piras di dare una svolta all'avvertenza e di aprire un dialogo con l'azienda subentrata nel progetto industriale, la Elmin Bauxite, che ormai da mesi tiene col fiato sospeso i minatori di Olmedo e le loro rappresentanze sindacali sul futuro dell'attività estrattiva. La prossima settimana i sindacati incontreranno ad Atene i vertici della nuova concessionaria e solo allora si saprà qualcosa sulle reali intenzioni della società. Ed ora la cronaca. I carabinieri della compagnia di Sassari hanno arrestato nel centro storico cittadino uno spacciatore nigeriano. La misura cautelare in carcere messa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari su richiesta del sostituto procuratore Mario Leo è scatulita dalle indagini effettuate dai militari dell'arma nell'ambito dell'attività che aveva portato già lo scorso 27 gennaio all'esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di soggetti responsabili in concorso tra loro di spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole di San Donato. Nell'attività investigativa si è scoperto che i tossicodipendenti della zona continuavano a ricevere rifornimenti di droga e nonostante gli arresti qualcuno era già stato in grado di sostituirsi agli abituali pusher. Il nuovo spacciatore si era insediato nella stessa base logistica dei connazionali nigeriani reclusi in carcere e sfruttando le stesse risorse aveva di fatto ereditato il loro giro d'affari. Eseguiti i necessari riscontri e quindi scattato il blitz anche per il nigeriano 39enne rinchiuso ora nel carcere di Bancali. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato 4 grammi di eroina già suddivisa in dosi, quasi 700 euro, provento, ritenuti provento dall'attività di spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento della droga. Cambiamo argomento, parliamo di ambiente, nuova iniziativa ieri di comunicare l'ambiente dedicata stavolta alla comunicazione istituzionale in materia ambientale. Importante il messaggio rivolto ai cittadini con l'obiettivo di sostenere una maggiore consapevolezza verso il rispetto della natura e delle regole della raccolta differenziata. Sentiamo Luca Foddai. Proseguono gli incontri di comunicare l'ambiente promossi dall'Associazione Madonna e con il patrocino del Comune della provincia di Sassari. Mercoledì presso l'auditorium del complesso del Carmelo è stato analizzato il tema del rapporto tra gli enti che si occupano di aree protette e chi svolge la comunicazione istituzionale. È stata la giornalista Grazia Assini, a detta stampa del Comune di Sassari, a soffermarsi su quest'ultimo aspetto. Palazzo Ducale cura con attenzione l'efficacia dei messaggi rivolti ai cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti. Grazie a una migliore raccolta differenziata è stata raggiunta quota 50%, un livello che permette l'accesso a premialità, evitando inoltre le sanzioni previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Ma è importante fare capire agli utenti che occorre osservare le prescrizioni, soprattutto per tenere pulita e ordinata la città, una maggiore consapevolezza che può essere ottenuta solo sviluppando la sensibilità dei cittadini. Il dovere delle istituzioni è allora quello di spiegare quali siano le conseguenze di determinati comportamenti scorretti. La comunicazione più diretta è oggi quella che avviene tramite i siti web e i social, Facebook in particolare, con le pagine gestite direttamente dal Comune, ma anche dagli ecovolontari e dove sono pubblicati avvisi che raggiungono migliaia di lettori, con picchi anche di 32.000 contatti. Luca Bittau, presidente della Sime, e Valeria Andreotti, specialista in biologia marina, hanno poi illustrato come un'associazione no profit possa contribuire alla ricerca, occupandosi della vita dei cetacei che popolano il Mediterraneo. L'incontro è stato coordinato da ricercatore Riccardo Manzani. Al termine, l'associazione Madonna ha proposto un concerto. Cristina Mura ha eseguito alla chitarra, musiche di Doland e Pons. Un convegno per discutere di salute mentale e di residenze per disabili psichiatrici si è tenuto a Sassari presso il CNR di Baldinca. Il convegno è stato organizzato dalla cooperativa sociale Il Sentiero. Sentiamo. Salute mentale, prospettive riabilitative e residenzialità sono i temi approfonditi nel convegno organizzato dalla cooperativa sociale Il Sentiero, titolare di una casa famiglia per disabili mentali a Ossi, con i saluti dell'assessore alle politiche sociali del comune di Ossi, Laura Cassano. Numerosi i relatori che vi hanno partecipato, come gli psichiatri Antonello Pitalis e Palomilia, gli avvocati Lia Caosu ed Ettore Liccheri, operatori dello spettacolo sociale come Alessandra Sanna e Piernatale Sanna, lo psicologo dello sport Manolo Cattari, oltre ai rappresentanti delle strutture politico-sociali di salute mentale. Si è discusso di condivisione e progettazione creativa con Maria Vittoria Casu, dell'Ordine degli Assistenti Sociali, della personalizzazione dei servizi dell'ente locale con Monica Spanedda, assessore dei servizi sociali del comune di Sassari. È intervenuto anche il procuratore capo del Tribunale di Sassari, Gianni Caria, sui problemi legati al procedimento penale nei casi di disturbi mentali. L'incontro è stato introdotto dalla Presidente della Cooperativa Sociale Il Sentiero, Margherita Aragona. Noi ci vogliamo proporre sul territorio come un servizio di qualità che offre aiuto a chi ne ha necessità e l'idea di questo convegno nasce proprio da questo, perché parlare di salute mentale non sia un tabù, ma parlare di salute mentale sia invece un aiuto a tutti, alle istituzioni, a noi in primis e che siano un ritorno per chi invece ha difficoltà e che non ha voce. Vorremmo dar voce a chi non ce l'ha. Riguardo all'evoluzione dei trattamenti, la psichiatra Paolo Milia ha richiamato l'attenzione sulle numerose e pressoché sconosciute sostanze che assumono molti giovani, causa di malattie mentali davanti alle quali la psichiatria fatica ad aggiornarsi. Ed ora la pagina di cultura, una spy story talmente incredibile da sembrare inventata. Invece Supernose è una vicenda realmente accaduta ad un agente segreto e raccontata dal giornalista e scrittore Luigi Carletti. Sentiamo. La vicenda è talmente incredibile da sembrare un romanzo, ma qualche volta la realtà supera la fantasia. Si parte dalla prigionia di un ex carabiniere italiano, l'agente Casper, che riesce a scappare e raccontare la sua storia a Luigi Carletti, giornalista e scrittore che abbiamo incontrato a Sassari e che ci racconta come nasce questa spy story. È una storia totalmente reale, nasce dall'incontro con un agente segreto, un agente sotto copertura italiano che per circa un anno è rimasto prigioniero in Cambogia perché aveva scoperto un traffico di Supernose. Le Supernose che cosa sono? Le Supernose sono banconote da 100 dollari totalmente perfette, fatte in maniera totalmente lineare con quelli che sono i crismi delle banconote americane, ma in realtà sono stampate in un'area diversa da quella americana, quindi sono false. Queste banconote vengono utilizzate di solito dai servizi segreti dei paesi occidentali, perché poi non è una cosa solo americana, per finanziare le cosiddette wet operations. L'era Trump in tutto ciò come si configura? L'era Trump è un ritorno agli Stati Uniti delle Supernose, perché con Obama va detto che tutta una serie di traffici avevano conosciuto un momento di stand-by o comunque di rallentamento, Trump riporta agli Stati Uniti all'epoca Bush con anzi alcune estremizzazioni ed alcune esasperazioni alle quali stiamo assistendo anche in questi giorni. E' ora una notizia che riguarda i festeggiamenti di carnevale, quello di Lipunti all'insegna del riciclo con i bambini delle scuole. Carta, bottiglie di plastica e altro materiale di riuso. Questa mattina un lungo corteo ha attraversato il quartiere. Sentiamo. Materiale di riciclo, carta, bottiglie di plastica e tanto altro. E' il carnevale riciclone che questa mattina ha visto protagonisti i bambini dell'istituto comprensivo di Lipunti. Un lungo corteo ha attraversato il quartiere, con cartelloni, maschere, strumenti musicali, tutto realizzato con materiale di riutilizzo. Oltre 700 alunni, suddivisi in 24 classi della scuola primaria e 10 della scuola dell'infanzia, che hanno seguito con entusiasmo uno specifico progetto che ha riguardato tutto l'istituto guidato dalla dirigente Maria Teresa Useri. Ogni classe ha scelto liberamente il tema da sviluppare, sempre mettendo in evidenza il messaggio del recupero dei materiali. Hanno sfilato mascherate anche le mamme, alcune con scelte particolari, come un abito da sposa. Al rientro a scuola, nel cortile è stato allestito momento di animazione collettiva. Il carnevale riciclone è solo una delle tappe di un progetto più ampio, dedicato ai temi del rispetto dell'ambiente, iniziato a settembre e che ha visto l'impegno dell'assessorato comunale alle politiche ambientali e degli eco-volontari, che hanno curato una serie di incontri. Tra le prossime attività, un'iniziativa programmata insieme alla polizia locale e che riguarderà l'educazione stradale, con una ciclo pedalata in calendario a breve. L'iniziativa del carnevale riciclone e il progetto ambientale saranno riproposte anche il prossimo anno. Mettere insieme il gioco con il messaggio della riduzione del volume dei rifiuti, tutto recepito dai bambini. E ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva in primo piano, il rientro dei giocatori della Dinamo, Banco di Sardegna. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva. In primo piano il basket, visi stanchi e tirati, quelli dei players Dinamo, ma sorridenti per l'accoglienza ricevuta dai tifosi bianco-blu, che hanno manifestato con cuori e bandiere il ritorno dei giganti. Ai nostri microfoni le sensazioni del capitano De Vecchi, di Brian Sacchetti e Diego Monaldi. Il servizio è di Icore Bichesu. Stanchi ma soddisfatti di quanto fatto. Ieri pomeriggio è rientrata la Dinamo dopo una trasferta durata sette giorni. Il bilancio, secondo posto in Coppa Italia e passaggio del turno in Champions. L'impressione di capitano De Vecchi, Brian Sacchetti e Diego Monaldi. È stato un bello tour de force, però siamo contenti. Abbiamo fatto una bella cavalcata in Coppa Italia, poi nonostante la sconfitta non era facile, siamo riusciti a passare il turno, che per noi è importante. Abbiamo perso di 20, però va bene comunque. Cioè è stata una battaglia, alla fine magari non pensavamo neanche di potercela fare, però abbiamo tirato fuori qualcosa di incredibile e ce l'abbiamo fatta. Adesso guardiamo avanti. Semplicemente uniche. Per me, e parlo per me, sono state due manifestazioni che non ne ho mai fatto prima e quindi sono state molto belle. Questi tifosi? Super, unici. Basta dire questo. E questo era l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora, io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Ora spazio nelle notizie nazionali con l'agenzia di stampa ADN Cronos. Vi invito a rimanere su Canale 12 anche dopo il telegiornale perché c'è da seguire l'undicesima puntata dell'Isola dei Libri a cura della tradizione giornalistica di Canale 12. L'appuntamento invece con il telegiornale per domani come sempre alle 19.45. Io vi aspetto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. Grazie.